Il 23 settembre del 1956 nasce a Prato Paolo Rossi, campione del mondo in Spagna nel 1982. Grazie ad un senso del gol fuori dal comune, il bomber toscano riesce a far fronte ai numerosi infortuni che lo bersagliano sin dai primi anni della sua carriera. Conquistata la maglia azzurra, Rossi dà il meglio di sé soprattutto ai mondiali. Alla sua prima partecipazione in Argentina nel 1978, Pablito ripaga subito la fiducia di Enzo Bearzot, realizzando i suoi primi tre gol in nazionale. Sarà tuttavia la manifestazione spagnola, quattro anni dopo a farlo entrare nella storia. Con sei reti messi a segno nelle ultime tre gare del torneo, Rossi conquista i titoli di capo cannoniere e miglior giocatore dei mondiali, prelugio, alla conquista del pallone d'oro. Lascia il calcio appena 31enne. Alla fine in 48 presenze saranno 20 i gol in maglia azzurra, 9 dei quali ai mondiali, record per un calciatore italiano, eguagliato successivamente da Roberto Baggio e Cristian Vieri. Alla fine in 48 presenze saranno 20 i gol in maglia,